Perdere una partita così all'ultimo minuto dove hai meritato sicuramente almeno di pareggiarla contro una grande squadra è veramente difficile, il giorno dopo ci pensi, anche adesso, però bisogna già iniziare la settimana per una sfida ancora più importante contro la nostra diretta concorrente, quindi dimenticarci quello che è successo, cercando di non commettere più gli stessi errori e affrontare il Bologna al meglio. Secondo me è mancata un po' di attenzione nel finale, eravamo un po' distanti gli rossettini l'uno dall'altro, la palla è passata in mezzo, non deve succedere, è un peccato, veramente è un peccato perché comunque difensivamente non avevamo concesso niente fino a quel momento, a parte la punizione di Tiago Motto che ci può stare, quindi dobbiamo cercare comunque di allenarci in settimana per non ripetere più quegli errori. Sicuramente la classifica è corta e quindi basta una vittoria per risalire, ha visto che il Cesena fa due vittorie consecutive da ultimo, adesso è già lì, quindi bisogna stare attenti, bisogna cercare di sfruttare al meglio soprattutto gli scontri diretti, ne abbiamo uno domenica, come abbiamo fatto fino adesso. Sicuramente andiamo a Bologna per cercare di vincere perché vincendo li teniamo giù e noi facciamo un bel balzo in classifica, quindi ci prepareremo molto bene questa settimana per cercare di fare più punti possibili a Bologna. Sicuramente siamo felici per i complimenti che sono arrivati, lo spogliatoio è consapevole comunque che la squadra sta facendo bene sotto il profilo del gioco e vuole continuare così, però siamo anche consapevoli che con complimenti non si va da nessuna parte, che dobbiamo fare punti e che abbiamo perso delle occasioni per farne perché abbiamo meritato di fare punti in queste ultime tre partite e ne abbiamo fatto solo uno, quindi magari sarebbe meglio giocare un po' meno bene e fare più punti. Quello che speriamo da queste prossime partite è fare più punti possibili, magari anche giocando un po' meno bene. Grazie a tutti.